La pazzerella di Sissi Quella pazzerella di Sissi con quei cernecchi da spaventapasseri eppure ti faceva ridere certe volte. Per esempio quando ti chiedeva se non volevi dell'altro tè cinese e l'ampellata di marmoni. E anche quando si disegnava caraffe e visi d'uomini sulle unghie con l'inchiostro rosso da farti schiantar dal ridere. O quando voleva andare in quel posto e diceva che voleva correre a far visita a Miss White. C'era tutta lei in queste cose, Sissuccia. Oh, e chi si potrà scordare la sera che si travestì col vestito e il cappello del padre e i baffi dipinti col sughero bruciato e andò a spasso giù per Triton Road fumando una sigaretta. Nessuno che le stesse appari per buon umore. Però era la sincerità in persona. Uno degli spiriti più coraggiosi e leali che siano mai comparsi sulla terra. Non una di quelle con due facce, troppo dolci per non darti la nausea. Ed ecco che si levò nell'aria un rumore di voci e le tonanti armonie di un organo. Era un ritiro per uomini della società di temperanza, diretto dal padre missionario, il reverendo John Hughes S. J., rosario, predica e benedizione del Santissimo Sacramento. Erano là riuniti senza distinzione di classi sociali ed era davvero uno spettacolo edificante da vedere. In quel semplice tempietto, presso le onde del mare, dopo le tempeste di questo mondo di fatica, in ginocchio, ai piedi dell'Immacolata, recitando le litanie di Nostra Signora di Loreto, scongiurandola di intercedere per loro. Le vecchie parole familiari. Santa Maria, Santa Vergine de Vergini. Suonava tanto triste alle orecchie della povera Gertie. Se il padre avesse solo evitato le grinfie del demone del bere, con un voto, oppure con quelle polverine per disabituare al bere nel settimanale di Pearson, ora lei se la scarrozzerebbe nella sua vettura, seconda a nessuno. Più e più volte se l'era ripetuto, mentre meditava accanto ai tizoni semispenti, in una cupa fantasticheria senza lampada perché non poteva soffrire due luci, o più d'una volta, mentre guardava fuori dalla finestra con occhi sognanti per ore e ore cadere la pioggia sulla secchia rugginosa. E pensava, pensava. Ma quella sozza pozione, che aveva rovinato tanti focolari e tante case, aveva gettato la sua ombra sui giorni della sua infanzia. Anzi, aveva dovuto assistere nel cuore della famiglia ad atti di violenza causati dall'intemperanza e vedere il proprio padre, in preda ai fumi dell'alcol, dimenticare completamente se stesso, perché se c'era una cosa al mondo che Gertie sapeva era che un uomo che alzi la mano su una donna, se non per carezzarla merita di essere bollato come il più vile tra i vili. E ancora cantavano le voci, supplicando la Vergine potente, la Vergine clemente. E Gertie, ravvolta nei suoi pensieri, a malapena vedeva o udiva le sue compagne, o i gemelli intenti ai loro giochi infantili, o il signore venuto da Sandy Mount Green, che Sissy Caffrey diceva che assomigliava tanto a se stesso che andava sulla spiaggia a fare due passi. Non lo si era mai visto, Brillo. Eppure, a onta ad ogni altra considerazione, non avrebbe voluto averlo come padre perché era troppo vecchio, o per altro, o per via della faccia, era un caso lampante di antipatia istintiva, o per quel naso lucido, coperto di pedicelli, e i baffi giallicci, un po' bianchi sotto il naso. Povero babbo. Con tutti i suoi difetti lei lo amava ancora, quando cantava Maria, come ti devo far la corte, o Il mio amor e il nido alla Rochelle. E avevano per desinare cozze bollite e un'insalata di lattuga con la maionese in scatola lesa in via cena. E quando cantava La luna è sorta insieme a Mr. Dignam, che è morto all'improvviso ed è già stato seppellito, Dio ne abbia misericordia, di un colpo, era il compleanno della mamma, sì, e Charlie era a casa in vacanza. E Tom e Mr. Dignam e Mrs. e Patsy e Freddy Dignam dovevano farsi fotografare tutti insieme. Chi avrebbe creduto che la fine fosse così vicina? Ora egli riposava per sempre. E sua madre gli disse che quello doveva essere un avvertimento per lui per il resto della vita, e lui non aveva neanche potuto andare al funerale per via della gotta, e lei era dovuta andare in città per prendergli lettere e campioni in ufficio del linoleum di Sughero Catesby, disegni artistici in esclusiva, degno di un palazzo, massima resistenza all'usura e sempre lucido e allegro in casa. Una figliola d'oro, quella Gherty, proprio come un'altra mammina nella casa, e poi un angelo del focolare con un cuoricino che valeva tant'oro quanto pesava. E quando mamma aveva quei terribili mal di testa che se la sentiva scoppiare, chi mai le passava il mentolo sulla fronte se non Gherty, benché non le piacesse che mamma fiutasse il tabacco, e questa era proprio la sola cosa su cui si fossero bisticciate qualche volta, stabaccare. Tutti dicevano un monte di bene di lei e delle sue maniere gentili. Era Gherty che chiudeva il gas tutte le sere, ed era Gherty che aveva attaccato al muro in quel posticino dove non dimenticava mai di buttare ogni quindici giorni il clorato di calce, il calendario natalizio di Mr. Tanny, il droghiere, quella figura dei giorni alcioni dove un giovin signore vestito come si usava a quel tempo con un tricorno in testa, offriva un mazzo di fiori alla dama del cuore, con la cavalleria del bel tempo antico, attraverso la finestra con i vetri piombati. Si vedeva bene che c'era tutta una storia dietro. I colori poi erano stupendi. Lei era vestita di un bianco morbido e attillato in una posa studiata, e il signore era incioccolato e aveva l'aspetto d'un vero aristocratico. Le guardava spesso con occhi sognanti quando era là per una certa ragione, e si palpava le braccia che erano bianche e morbide come quelle di lei con le maniche rimboccate, e pensava a quei tempi lontani perché aveva scoperto nel dizionario fonetico Walker di nonno Giltrop che cosa voleva dire giorni alcioni. I gemelli stavano ora giocando come devono fare due bravi fratelli, finché il piccolo Jackie, che era davvero un monellaccio, c'è poco da dire, mandò apposta la palla con un calcio fortissimo giù verso le rocce algose. Inutile dirvi che il povero Tommy non tardò a manifestare la sua costernazione. Ma fortunatamente il signore in nero, che se ne stava là da solo, venne arditamente alla riscossa e intercettò la palla. I nostri due campioni reclamarono il balocco con vigorosa grida, e a scanso di guai Sissy Caffrey gridò al signore se per piacere la tirava lei. Il signore prese la mira due o tre volte e poi la tirò su per la spiaggia verso Sissy Caffrey, ma la palla rotolò giù per il pendio e si fermò proprio sotto la gonna di Gertie, vicino alla pozzanghera sotto alla roccia. I gemelli rumoreggiarono di nuovo per averla, e Sissy le disse di tirare un calcio alla palla e lasciar che facessero pure a pugni fra loro. E allora Gertie tirò indietro un piede, ma avrebbe voluto che quella stupida palla non fosse rotolata fino a lei, e dette un calcio, ma la mancò. Ed Edie e Sissy risero. «Che sbagli e riprovi!» disse Edie Borma. Gertie sorrise assentendo e si morse un labbro. La guancia graziosa le si soffuse di un rosa tenue, ma era decisa fargliela vedere lei, e allora si rialzò un pochino la gonna. Ma appena quanto bastava e prese la mira e dette alla palla un bel calcione, e questa volta andò a finire chissà dove, e due gemelli via dietro di corsa verso la ghiaia della riva. Pura gelosia era e nient'altro, si capisce, per attirare l'attenzione per via di quel signore di fronte che stava a guardare. Sentì il caldo rossore, sempre un segnale di pericolo per Gertie MacDowell che le saliva e ardeva sulle guance. Fino ad allora si erano scambiati solo sguardi dei più casuali, ma ora, di sotto l'attesa del cappello nuovo, ella azzardò uno sguardo verso di lui, e il volto che incontrò il suo sguardo, là, nella luce del crepuscolo, smorto e dai lineamenti stranamente tesi, le sembrò il più triste che avesse mai veduto. Attraverso la finestra aperta della chiesa l'incenso fragrante giungeva sulle ali della brezza, e con esso i nomi fragranti di colei che fu concepita senza macchia di peccato originale. Vaso spirituale, prega per noi. Vaso onorabile, prega per noi. Vaso in signe di devozione, prega per noi. Rosa mistica. E vi era là cuori consunti dalle preoccupazioni, e gente che lavorava per guadagnarsi il pane quotidiano, e molti che avevano errato e vagato, con gli occhi umidi di contrizione, ma ciò nonostante brillanti di speranza, perché il reverendo padre Hughes aveva detto loro quello che il grande San Bernardo aveva detto nella sua famosissima preghiera a Maria, il potere d'intercessione della pietosissima Vergine che non si era mai inteso nei secoli, che alcuno, avendo implorato il suo possente patrocinio, fosse rimasto abbandonato. I gemelli stavano ora giocando di nuovo allegramente, perché i dolori della fanciullezza sono fuggevoli come gli acquazzoni d'estate. Sissi seguitò a giocare col piccolo Borman, finché questo non chiocciò di Letizia battendo in aria le manine. «Cucù!» gridava lei dietro il mantice della carrozzina. E Daddy chiedeva dove era andata Sissi. E allora Sissi metteva fuori la testa e gridava «Ah!» E parola mia! Come ci si divertiva l'Ometto! E poi gli disse di dire papà. Di papà, pupo! Di papà, 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 papà! E il pupo faceva del suo meglio per dirlo perché era molto intelligente per essere di undici mesi, dicevano tutti, e grande per la sua età e ritratto della salute, proprio un amoruccio e sarebbe certo diventato una persona importante, dicevano. Aggia, 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 aggia! Sissi gli pulì la boccuccia col bavaglino e voleva che stesse seduto per benino e dicesse pa, 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 ma quando slacciò la cinghia cacciò un urlo «Gesù mio!» Era tutto bagnato e bisognava ripiegargli sotto la copertina dall'altra parte. Naturalmente Sua Maestà Infantile fu quanto mai indignata per tale formalità di toilette e lo fece sapere a tutti. Babà! 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 E due lacrimoni grossi, belli grossi, gli scorrevano giù per le guance. Era inutile cercare di calmarlo con «No, no, no, pupino, no!» e dirgli del ciucciù e dov'era il tutù. Ma Sissi, sempre piena di risorse, gli mise in bocca la tettarella del biberon e quel piccolo miscredente si calmò subito. Gerti avrebbe proprio voluto che portassero via quel frignone a casa invece di lasciarlo là a darle ai nervi. Non era ora da star fuori e anche quegli altri due marmocchi. Lasciò vagare lo sguardo sul mare infinito. Era come le pitture che quell'uomo faceva sul marciapiede con tutti i gessi colorati. E che peccato lasciarle lì a farle scancellar tutte. La sera e le nuvole che compaiono e il faro di Bailey sul capo Oath e sentire una musica come quella e il profumo dell'incenso che bruciavano in chiesa come una brezza. E mentre guardava il suo cuore si mise a battere forte. Sì, era proprio lei che quell'uomo stava guardando e il suo sguardo diceva tante cose. I suoi occhi bruciavano dentro di lei come se la penetrassero da parte a parte, le leggessero nell'anima. Occhi meravigliosi erano, superbamente espressivi. Ma c'era da fidarsene. La gente era così strana. Lei si accorgeva benissimo dai suoi occhi scuri e dal pallido volto intellettuale che era uno straniero. L'immagine di quella sua foto di Martin Harvey, l'idolo delle recite a prezzi popolari, eccettuati i baffi che lei preferiva perché lei non era fanatica della scena come Winnie Rippingham, che voleva che loro due si vestissero sempre allo stesso modo per via di una commedia. Ma da dove lui era seduto non poteva vedere se avesse il naso aquilino oppure un tantino retroussè. Era in lutto stretto. Questo lo si vedeva bene. E la storia di un incubo doloroso era impressa sul suo viso. Avrebbe dato qualsiasi cosa per sapere cos'era. Guardava in alto con occhi tanto fissi e intensi e le aveva visto tirare il calcio alla palla e forse avrebbe anche visto le lucide fibbie d'acciaio delle sue scarpe se lei le faceva ondeggiare così, sopra pensiero, con la punta in giù. Era contenta che qualcosa le avesse suggerito di mettersi le calze trasparenti pensando che Reggie Wiley fosse in giro, ma tutto ciò era ormai lontano. Ecco quel che aveva tante volte sognato. Era lui che importava e c'era gioia sul suo volto perché lei lo voleva, perché sentiva istintivamente che egli era diverso da tutti. Il cuore stesso della fanciulla donna volò verso di lui, l'uomo dei suoi sogni, perché aveva capito all'istante che era lui. Se egli aveva sofferto, contro di lui si era peccato, più che non fosse egli stesso peccatore. Eppure, eppure, anche se fosse stato un peccatore e un uomo cattivo, a lei non importava. Anche se era un protestante o un metodista, lei lo avrebbe potuto facilmente convertire se la amava veramente. C'erano ferite che si guarivano solo col balsamo del cuore. Era una vera donna, lei. Non come tante altre farfalline senza femminilità che egli aveva conosciute. Quelle che vanno in bicicletta per mettere in mostra ciò che non hanno. E lei invece bramava di saper tutto, di perdonare tutto, se mai si fosse innamorato di lei, fargli dimenticare ogni ricordo del passato. Forse allora lui l'avrebbe abbracciata dolcemente, davvero uomo, premendo contro di sé il suo morbido corpo, e l'avrebbe amata la sua fanciullina solo perché era lei. Rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, ora pronobis. Giustamente è stato detto che chi la preghi con fede e costanza mai si perderà o sarà abbandonato. E ben a ragione è là e anche un porto di rifugio per gli afflitti a causa dei sette dolori che le trafissero il cuore. A Garty pareva proprio di vedere tutta la scena della chiesa. Le vetrate istoriate illuminate, i ceri, i fiori e gli standardi azzurri della confraternita della Santa Vergine. E padre Corroy, che serviva il canonico Ellen all'altare, andando e venendo con la roba in mano e gli occhi bassi. Sembrava quasi un santo e il suo confessionale era così tranquillo e pulito e buio e le sue mani erano proprio come di cera bianca. E se lei si fosse mai fatta suora Domenicana con quel bell'abito bianco, forse lui sarebbe venuto al convento per la novena di San Domenico. Le disse quella volta quando lei gli disse di quella cosa in confessione, imporporandosi fino alla radice dei capelli per timore che la vedesse, di non turbarsi, perché quella era solo la voce della natura, disse, in questa vita, e che quello non era peccato, perché ciò veniva dalla natura della donna secondo il volere di Dio, disse, e che perfino la Santa Vergine aveva detto all'Arcangelo Gabriele Siamifatto secondo la tua parola. Era tanto gentile e santo e lei spesso aveva pensato e pensato di fare un copriteiera con le ruche a disegno floreale ricamate per regalarglielo. Oppure un orologio. Ma un orologio ce l'avevano. L'aveva visto sul caminetto, bianco e oro, con un canarino che usciva dalla porticina, per dire l'ora. Quel giorno che era andata là per i fiori delle quarant'ore, perché era un po' difficile sapere che tipo di regalo fare, o forse un album con vedute a colori di Dublino o qualche altro posto. Quei due marmocchi esasperanti ricominciarono a leticare e Jackie tirò la palla verso il mare e tutti e due le corsero dietro. Ragazzacci maleducati come scimmie. Qualcuno avrebbe dovuto suonargliele di santa ragione per farli stare al loro posto a tutti e due. E Sissi e Daddy urlarono che tornassero indietro perché avevano paura che salisse la marea e affogassero. Jackie! Tommy! Come dire al muro. Ecco come stavano a sentire. Allora Sissi disse che era l'ultima volta che li portava fuori. Salto su e li chiamò e corse giù per il pendio, oltrepassando l'uomo, scrollandosi i capelli dietro la testa, che avevano un bel colore se fossero stati un po' più abbondanti, ma con tutta quella roba che ci andava sempre stropicciando sopra non riusciva a farli crescere di più, perché non era natura loro e lei poteva anche dannarcisi l'anima. Corsi a gran passi di struzzo. Miracolo che non le si stracciasse sul fianco quella gonna troppo stretta, perché Sissi Caffri era proprio come un ragazzaccio e si buttava subito avanti quando le pareva ci fosse una buona occasione di mettersi in mostra e siccome correva forte sgambettava a quel modo in maniera che lui potesse vedere il fondo della sottoveste e le sue caviglie tutte pelle e ossa fin dov'era possibile. Le sarebbe stato proprio bene se avesse inciampato accidentalmente apposta in qualcosa, con quei tacchi alti alla francese che portava per sembrar più alta, e avesse fatto un bel capitombolo. Tableau! Sarebbe stato un bel esposè per un signore come quello. Regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, di tutti i santi, e si pregavano, regina del Santissimo Rosario. E poi padre Conroy porse il turibolo al canonico Ellon ed egli ci mise l'incenso e incensò il Santissimo. E Sissi Caffri prese i due gemelli e bruciava dalla voglia di dar loro una solenne sventola sulle orecchie, ma non lo fece perché pensò che lui forse la guardava. Ma un errore più grande non poteva farlo perché Gertie vedeva benissimo senza guardare che lui non le toglieva gli occhi di dosso. E allora il canonico Ellon rese il turibolo a padre Conroy e si inginocchiò guardando verso il Santissimo, e il coro cominciò a cantare Tantum Ergo e lei muoveva il piede a tempo avanti e indietro mentre la musica saliva e scendeva al Tantum Ergosa Cramenturn. Tre e undici le aveva pagate quelle calze da Sparrow in George Street martedì, no, il lunedì prima di Pasqua, e ancora non s'erano smagliate una volta ed era quello che lui guardava per via della trasparenza e non quell'altro paio insignificante, senza linea né forma. Aveva una bella faccia tosta quella là perché lui ce li aveva gli occhi per vedere e notava la differenza. Sissi risalì la spiaggia coi due gemelli e la loro palla e con il cappello messo alla meglio sulle ventitré dopo quella corsa, e sembrava una strega a tirarsi dietro i due ragazzini e quella camicetta da quattro soldi che aveva comprato appena da quindici giorni che le stava come uno straccio e un pezzo di sottoveste che veniva fuori come in una caricatura. Gherty si levò il cappello per un momento per aggiustarsi i capelli. E mai una più deliziosa ed elegante testolina di chiome e castane fu vista su spalle di fanciulla, una piccola visione radiosa, invero, di una dolcezza da fare impazzire. Bisognerebbe farne di strada per trovare una testa di capelli come quella. Le pareva quasi di vedere il rapido flusso di ammirazione che le giungeva in risposta dagli occhi di lui e la fece vibrare nervo a nervo. Si mise il cappello in modo da poterlo guardare di sotto la tesa. E mosse la scarpetta col fermaglio più svelta perché le mancò il fiato nel vedere l'espressione di quegli occhi. Egli la adocchiava come un serpente ad occhi alla preda. Il suo istinto di donna le disse che aveva risvegliato il diavolo in lui e a quell'idea una fiamma di porpora le corse dalla gola alla fronte finché il colore incantevole del suo volto non divenne quello di una rosa accesa. Grazie. Grazie. Grazie.